Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua nel... non lo so, sarebbe in teoria il sesto, però la verità è il quarto, no, il terzo, scusatemi, ma comunque, il primo video delle semifinali, ossia Brasile-Germania, la prossima sarà Argentina-Olanda Niente, il primo di questi video con la webcam, spero vi piaccia, l'audio sarà migliore rispetto alle altre volte perché l'altra volta utilizzavo questo, l'altra volta utilizzerò quello solido della videocamera, quindi spero comunque si senta meglio A breve arriverà anche un microfono, quindi sarà ancora ulteriormente medio, e poi inoltre voglio dire un'altra cosa che sinceramente adesso mi sono scordato, ah, se ho detto prima, credo, quest'estate cercare di pubblicare molti più video sul video perché, come ho detto, mi diverto moltissimo a editarvi, è una cosa spettacolare E appunto adesso che mi arriverà il microfono, diciamo, potrò fare, per così dire, tra virgolette, sessioni più lunghe di gioco, cioè nel senso, io di solito quando registro, diciamo che cerco di non lasciarmi andare per il fatto che devo rimanere nell'arco dei 29 minuti Perché la videocamera, come dire, può registrare insieme interamente 29 minuti, poi posso ricominciare con altri 29, poi c'è sempre il problema della batteria, della memoria della microSD Che comunque già vi ho spiegato in altri video, quindi comunque adesso avendo semplicemente il microfono, anche nel caso in cui la webcam si spegnesse, magari non vedrete me, però comunque sentirete la voce e quindi niente Noi nel prima partita ci preghiamo la bella Ragazzi, siamo qua, partita cominciata, Brasile-Germania Secondo me, vince il Brasile Denza Neymar Eh, vabbè, qua ci sta Qua ci sta, nonostante abbiamo attivo di Matchday, ci sta, però va bene E' perché lo dovrebbero levare in teoria Perché è fortunato Fuori gioco Questo strumento Neymar Junior Oggi qui sarai giù Piccolo 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 Rampala per Camasini, pronostico 1-0 per il Brasile Ma te stai dicendo in realtà? Tutto e due Tutto e due Tutto e due In realtà vincere la Germania, anche nel gioco No, no, no Nel gioco vince il Brasile come minimo Per forza E invece nella realtà Non lo so Se non è perché non ci sta Neymar magari potrebbe perdere Quindi, però solo per quello Se no vincerebbe il Brasile Guarda Royce Eh, vedete, ho detto guarda Royce io però Cosa? Cosa? Ho detto Io ti ho detto Guarda Royce Ma cosa? Che significa? Cioè Che era solo L'ho capito Però non hai fatto niente Avessi fatto gol Vabbè, guarda qua Come ti fa assegnare? Scoletto Sicuro Sicuro Che ti fa assegnare Invece No, potevo fare il gol della merda Però Niente da fare Gigi e tazzo Potevo fare il gol della merda Sinceramente Però Per lealtà Diciamo Non l'ho voluto fare Per onestà Psicoterapeutica È senza È senza carattere Il Brasile A me piace Non c'è Non c'è un giocatore A poverci Ciao sì Però Così Non ce ne sa Come che spicca I giocatori sono spicchi di me Così La cazzata del giorno È così Il tira giro Cosa Cosa Tiro giro Cioè Guarda che sarà a fa No, no Tira Tira No, no Neymar Neymar Ehm 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 Come si chiamava la mossa Che faceva Junior Quella Con le due dita sulla testa E poi partiva quel coso Cioè Cannone No Cannone No Quello non era di due Ma che poch Quella era VG Davvero Eh sì Sta lagando Big Connection Larga Indovina di chi è l'asta Esatto Già è tardi Larga No Vabbè No Vabbè 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 Sono di destra Guarda Sam Che palla Gli ha date È pappaculo Però Mamma mia Che azione Abbiamo fatto Porco Che azione L'amodonna E poi Ci vuole un super giù da Cesar Che cazzo Che scatto ha fatto Oh Pallo Fuori gioco No Dai Dai Hulk Hulk Now Say my name Hulk 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 Vabbè 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 Andiamo così Andiamo per l'inno Andiamo per l'inno Ci manca un altro gol Abbiamo tre minuti a disposizione Siamo carichi Siamo gasati Siamo gasati Uuuuuh Ragazzi Mi sono stato rottato a cazzo In questa storia Dominata Ci vediamo al prossimo episodio Comunque Hulk ha bugato Eeeh Niente Spero che mi sia giusto Grande Hulk Sempre per sempre Vivei al G gamma Spero che il Brasile vada in finale Così faremo un altro video con il Brasile E con il nostro Bruce Banner E niente Noi spiegiamo il Brasile Bella raga Bella raga